Ciao a tutti e ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi sono insieme ai NACE Cri-cri-cri-cri-cri E non era programmato Vabbè è sempre bello che ci stai un video con voi ragazzi Sempre bello Benvenuti su Fortnite Che è un gioco Che è uscito sia per console Ma c'è anche per pc ed è figo E' cartonato, è bello, puoi costruire le cose, puoi sparare alla gente E trovate il link in descrizione Soprattutto, e partiamo Un filo che è gratis, se no non ci vanno Quando è gratis in descrizione è ovvio che è gratis Visto che Surry è la persona Un filo più impreparata nel gioco Oggi Surry sarà il presidente Il presidente dei Maze Ed è per questo, signore e signori, che mi sono vestito così Oggi è il presidente dei Maze Quindi noi saremo le guardie Con la pigiatuta La pigiatuta Dobbiamo difendere con i denti Con la grinta al nostro presidente Ma anche con le mani, non solo con i denti Anche con le armi Cioè usa un po' tutto quello che hai Un po' con le mani, con le dita Un po' con i denti Sbatti le mani, sbatti le dita Eccoci Signore presidente Dica Sono nemici multipli sulla mappa Direi di andare in una posizione sicura Siamo in 94 E dove andiamo? Mi dica, mi dica Capo della sicurezza Acres che al massimo ci sono soltanto i Dove ho la mia residenza estiva? L'ultima volta che ha detto una cosa del genere Non c'è nessuno Era pieno di gente Ma infatti non mi ispira Ma andiamo ragazzi Andiamo Cosa vede che succeda? No raga! Ma c'è No si è buttato No Dove andiamo? Mettete un pallino raga Non so dove andare Salti springs Butta giù Salti springs Orca vacca Ma raga ma è pieno di gente Stefano E se ti sei buttato tu? Raga quanta gente c'è Quanta gente Raga non sapete fare la security Sono già morto E aspetta Si è pieno di gente Aspetta Aspetta sto arrivando Eccomi Eschere Vai Un'arma per il presidente Ce l'abbiamo? Non stare mai da solo Surry Ma mi hai rubato l'arma Mi stai rubando tutto Io non ho niente Surry tu non devi avere armi Come no Sono il presidente Ti difendiamo Il presidente non spara Le guardie Ecco vado in giro col piccone Così mi ammazzano Respirandomi addosso Vai grande Surry Sono stato molto fortunato Per facenza qua c'è una cassa per lei Ah arrivo arrivo Grazie Dov'è la cassa? Raga è pieno di gente Andando sto andando Sto andando signore Sto andando Raga Bandando Vuol dire che ce ne sono altri tre Ok andiamo Non ci dividiamo Signore della security Andiamo andiamo Dove andiamo Signore presidente Ok vado a stepney allora Buongiorno agente stepney Mi dica dove andiamo La mi segua La mi segua La seguo allora Che stai rompendo C'è una cassetta Raga io ho uno scudo blu Per il signor presidente E dai Alla grande Signore signore Quello che ho trovato L'ho bevuto Anch'io l'ho bevuto di due Ma l'ho trovato un terzo Ma guarda Non c'è 100% di scudo Ne vedo uno a destra Ne vedo uno a nord est Nord est Dai c'è le coordinate Ha detto nord est Preciso nord est Preciso nord est Io sto parlando nord est Non lo vedo comunque Prendi presidente prendi Pegliamo sto coso Beviamolo Ce ne dovrebbe essere Ce ne dovrebbe essere uno Alle spalle nostre Attenzione guarda Stasso che costituisce Una super mega scala Per salire in cima al tetto Andiamo a fare il culo a sto buco Vai dall'alto Strateggia Voleva uccidere il presidente Voleva Non vedo nessuno Dov'è? Non lo so Guardiamo un giro Sto controllando sotto Occhio perché Non è che sarà andato molto lontano Secondo me si è nascosto Da qualche parte Dov'è scappato raga Ah ah mi stavo sparando Mi stavo sparando Dov'è? No dietro 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 la roccia La roccia La roccia Arrivo signor presidente Mi ha battuto Vai 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 Non mi ha sparato Mi curate Curate il presidente Grazie Ti ha salvato Voglio l'aumento Che sa? Ti ho salvato Voglio l'aumento Ok E l'aumento Ecco Zio ti ricordo come usiamo i soldi Di quelli che pagano le tasse Vabbè Voglio l'aumento io Andiamo a luttare queste case Velocemente Quali? Queste qua davanti a noi Cosa c'è? No Guarda che roba Vai agente Step E andiamo Difendi i surri Dove stai andando bello? Ci vuol campanile C'è un trofeo Un tesoro È vero Ma mi sa che non è un campanile Zia è la cosa di una fabbrica Io beh Quello che è Entro nella fabbrica Cosa c'è di bello là dentro? Magari guarda la leggendaria Qua c'è uno scudo È uno scudo No sono caduto signor presidente Bravo bravo Prendo io lo scudo allora Sono rimasti in 35 ragazzi Ovviamente Magari non l'ho detto all'inizio L'obiettivo è arrivare i primi Prendi prendi Giustamente Direi che possiamo abbandonare l'aria Trapperti Veloci Veloci Prendete lo scudo andiamo via Prendete lo scudo andiamo via Prendete lo scudo andiamo via Sta chiudendo eh Andiamo Via 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 L'obiettivo è arrivare nel Tento stai Obbiettivo è arrivare il piano Che scende la vita Sono rimasti 24 signore e signori Signor presidente con calma La vedo molto Molto pronto La battaglia Ma Tranquillo Ho finito i materiali Mi sa Faccio io Faccio di mattone No niente ci sono Occhio un attimo Un attimo ragazzi che vi sto guardando qua Se c'è qualcuno Perché qualcuno Quali hanno fatto le scale Occhio E però Sono già nati Sono sicura Venite qui No 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 di qua zio Vai 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 Vi seguo da sopra Non puoi andare più in alto Eh no ormai l'ha piazzato Vai andate prima voi Prego Vai 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 Mettetelo subito il paragaduto E via Vada presidente Ok Andiamo Raga E no io non vedo gente Immaginatevi chi ci vede scendere adesso Pensano Ma questo è da dove Esatto C'è uno che sta salendo la montagna Raga Da che parte Devi dire il numero Ovest E la madonna Che cazzo C'è uno dietro la capanna Costruite le spalette Mio presidente Si camperi E ho finito i materiali Lo sto facendo io Ragazzi attenti Da dove Non scutirà il cecchino Dove sono? Non lo so Mi è passato il progetto vicino però Stai curati Bendati Io non lo vedo eh Zio Una dentro la capanna Mi sta colpendo Raga dovete entrare nell'area sicura Dobbiamo entrare raga Io sono già dentro Sto curando Arrivo nella tua zona Eccolo sta arrivando Sono in due Sono in due Attento Sto colpendo Ci hanno lo scudo Fitto le munizioni Dai L'ho tragi tutti e due Vai vai L'ho uccisi Andiamo di pompa Lasciatemi il cecco Attento che ce n'era un terzo Lo sbaglio Non lo so Secondo come è andato Ci stanno sparando Ci stanno sparando Mi hanno atterrato Mi hanno atterrato Sono morto Ma chi era? Troppo a buco L'ho detto che era terzo C'era un terzo No ma questa era un'altra squadra Il secondo è morto subito Non l'ho atterrato Era un'altra squadra Si stronzi Io il primo l'ho atterrato Il secondo è morto subito Vabbè ragazzi Il presidente è sopravvissuto Fino al quattordicesimo Sono mai di settimi Abbiamo giocato Non male Dai dai Altra partita Proviamo Link mi scrive il gioco In descrizione È gratuito Allora Ok Non ci arriva La prigione è buona Eh ragazzi Ok dai dai Ok ho beccato uno scudo Corri Dimmi Guarda qui Dove sei? Ma che figata È la chiazucca E mica ti immagini Oh raga andiamo Tutti i morti Venite verso di me Che vedo anche un clan È molto lontano Molto lontano Cos'è che hai visto? C'è un clan è lontano Calma Non sparate Non sparate Non sparate Non sparate Calma Sono in tre Li vedo Ma stanno sparando Stanno sparando Stanno sparando Stanno sparando Eh no Adesso dobbiamo Uh ne ho atterrato uno Che culo Dove 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 Dillo Eh nord est Sono tutte e due a terra raga Ok manca il terzo Attaccate raga Sono in due a terra Vado 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 Aspetta c'è solo dieci colpi Eliminato Eliminati Eliminati Tutti Attenzione si che sulla sinistra C'è un altro gruppo Che li stava sparando Eravamo in due a spararli Quindi andiamo verso di loro Ma attenzione Dobbiamo luttare Sare sulla destra Sare sulla destra Ma insi sulla costruzione Ho visto qualcuno No 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 C'è il gruppo C'è il gruppo Però raga Facciamo così Visto che Dobbiamo andare verso la barriera Andiamo di qui Andiamo di qui Vabbè vicino Eh vabbè correte raga Però c'è anche un gruppo di lì Vabbè anche loro rischiano I danni Sì 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 Correte correte Però zii attento eh Che sei un po' in culo No no vai tranquillo Io ne ho visto solo due No uno due tre Sono quattro Sono quattro Sono quattro Quello è un altro gruppo Raga li stiamo seguendo da sinistra Nessun problema Con calma Io li sto solo guardando eh Tanto a sinistra Alla nostra sinistra Abbiamo la barriera Eh raga muoviamoci Perché se loro arrivano Prima di noi alla safe E poi ci tengono Capito Ci tengono fuori Sì è quella montagna lì Raga c'è uno che sta facendo Un ponte enorme in alto Eh lo so Cazzo siamo nelle bedwars No no aspetta Dov'è che l'ha fatto Dov'è che l'ha fatto Quello è in cima Eh ma è lunghissimo Muoviti raga Si chiude eh Salite 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 Vai vai costruite Buono così Che ci andiamo anche in avanti Bella Almeno stiamo in alto Almeno stiamo anche in alto A destra a destra dobbiamo andare A destra dobbiamo andare Raga la barriera sta arrivando Mi raccomando Sono in cima alla montagna raga eh Eh lo so ma Non sono in safe loro Dov'è in safe Sì come sì che sono in safe Ah loro sì ok Ora siamo anche noi Oh c'è uno in alto Lo vedo Aspettate avvicinatevi Avvicinatevi 015 Venite Dov'è che sono Non li vedo Sono in cima alla collina raga Aiuto Lo vedo Eccolo Morti 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 raga C'è uno scardoro Che figata Uno scardoro Bellissimi Bravi raga Bravissimi Che devasto Aspetta che Raga ho lasciato le armi A me Non lanciarà Un attimo E poi mi se le riprendo Raga c'ho 710 proiettili Dove sono raga I colpi Ah qua 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 Giù dove sono io da solo qua Anche qui Io c'ho lo scardoro raga Io l'unico sa che non ho Un mitra Parca Sono cecchini Vedete qualcuno Andato a kamikaze lì dentro Guardatevi in giro Perché potrebbe essere Anche in cima La montagna sinistra Uno giù Lo vedo Dove 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 direzione Ah ok L'ho visto 15 Calma raga Non sparate subito Facciamo strategia E poi spariamo Non sparate Perché sennò Vi vedono Comunque era uno solo Mi pare Eccolo là Ci guarda Ci guarda Non lo vedo Posizione Dietro alpino Dietro alpino Dietro alpino 0-15 Oh hanno tenato Steph Vai dietro l'albero Vai dietro l'albero Ok Fermati Così sono al sicuro Ragazzi Vieni a darmi una mano Ragazzi dovete venire a dare una mano A colpirlo Eh Sto rialisando Steph Perché siamo Non siamo ancora Nella safe Raga Aspetta Due secondi Arrivo Ok Sono senza nafta Arrivo Ok hanno tenato uno Eh ragazzi Sono lontanissima C'è ancora il cerchino Tento L'ho uccisi L'ho uccisi L'ho uccisi Ragazzi Senza nafta Chi è che ha bisogno di vita Giuseppe vieni qua Io ce l'ho Ce l'ho presa Ragazzi si sta curando Perfetto dai Qua ci sono dei razzi Sascha Ci sono dei razzi Ok Dove dove Qui da me Secondo me in cima Becchiamo il cerchino Aspettate Però aspettate un secondo Ragazzi Vieni qua Ti do la vita Giuseppe Vieni qua C'è un team A 330 A 345 In lontananza Ok ok Con calma Con calma raga Adesso costruiamo Una specie di piccola base Qui è Tutti dentro Cioè non Stanno sparando a Surry No 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 C'è una rivante Ok E uno c'è spuglio Ragazzi io mi chiudo qua dentro Fatevi una specie di costruzione Ma anche a me Sono atterrato Allora è esattamente in cima La collina a 285 Scendi un po' giù Oh Mi stanno sparando Giuseppe ci sono Stanno sparando ancora Vieni più dentro Io non ho il cecchino Ok Allora Avete uno scudo che vi avanza Ok Però bisogna rianimare Stan Non lo vedo No no ti interro C'è la zona davanti Guarda che qua ci sono Io mi nascono detto La casetta con Stefano C'è una casetta Eh raga Siamo quasi in safe Dai io vado un pochino più avanti E costruisco La casetta Nella casetta in safe Tra l'altro L'angolo della casetta No Non è in safe la casetta Mi sa Vai vai Sascha Via 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 Ho pigliato Ho pigliato Oh cazzo Ho risa E ora sono usciti per forza Da Stefano Eccolo 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 Oh porco il cazzo Arrivo Arrivo No L'ha atterrato Attento Stai c'è l'altro L'altro là E' lì raga Lì dietro a sinistra No Eccolo No No Quasissimo Raga Quasissimo Raga io sono venuto Ad aiutarvi Non ci capito un cazzo Ma da dove sono sbucati Cavolo Eh da dietro il muro Non ci ho capito un cazzo Ve lo giuro Mancava così No però figata Figata pazzesca Ragazzi Io vi ricordo Che potete trovare In descrizione Il link Per scaricare Il gioco Che è gratis Ringrazio a tutti Per aver partecipato A questo video Ci vediamo Nel prossimo Video E niente Noi vi salutiamo Ciao Bella raga